Come valuti il passaggio dagli allievi regionali agli allievi elite, quindi su base provinciale? Ma diciamo abbastanza bene, chiaramente il livello è un pochino più basso rispetto all'anno scorso, però direi che sostanzialmente ci siamo comportati abbastanza bene. La tua squadra si è ben piazzata in campionato e è passata a fare la cosiddetta Coppa Regione, un confronto quindi anche con le squadre dell'Alto Adige, c'è ancora differenza con loro? Dal punto di vista tecnico direi proprio di no, abbiamo visto domenica ci siamo comportati discretamente bene, chiaramente l'impatto fisico invece è stato diverso, tenendo conto anche che la mia squadra è molto giovane rispetto agli altri, direi di no. Mezzocorona e Fersina hanno giocato lo spareggio per decidere chi delle due, arrivate a pari punti a fine campionato, dovessi andare a fare le fasi nazionali. Credi che sia giusto il risultato finale, ovvero Mezzocorona? Ma è difficile sempre giudicare perché io li ho visti per due partite, perché andate e ritorno, andate e ritorno, ma direi che sostanzialmente Mezzocorona mi ha impressionato di più dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista tecnico, sicuramente una squadra probabilmente di un pochino superiore. Cos'hanno questi ragazzi, questi adolescenti in più rispetto all'epoca in cui Germano Cieck era un adolescente? Ci hanno troppi sbagli, secondo me. Ti ho chiesto cosa hanno in più? In più direi niente, nel senso che noi viviamo in un modo di calcio praticamente, a questi ragazzi qua secondo me mancano, manca l'oratorio, ecco che è la base dove si inizia. Tanti di questi ragazzi magari vengono al campo solo per un'ora e mezza, due ore al giorno, al giorno, per tre volte alla settimana, per cui se facciamo il conto sono circa sei ore a settimana di allenamento, quando noi in realtà ne facevamo sei ore al giorno di allenamento. e penso che la differenza sia tutta lì, ecco. E bisognava tirarvi via dalla strada per portarvi a casa? Certo, sicuramente. Ma d'altra parte, insomma, i tempi sono cambiati, adesso ci sono cose diverse, ci sono più, diciamo più svaghi, ecco, sono più attratti anche ad altre cose. Noi avevamo solo quello e eravamo contenti così.